E' successo durante il concistore o ruinito per tre canonizzazioni. Il Papa si è dimesso. Una decisione storica. In latino, leggendo un foglio scritto a macchina, Benedetto XVI comunica la sua decisione presa con piena libertà. Le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il Ministero. Un vigore del corpo e dell'animo che è diminuito negli ultimi mesi, dice il Papa. A distanza di otto anni dalla sua elezione, Joseph Ratzinger lascia San Pietro. Dalle ore 20 del 28 febbraio 2013, la sede di Roma sarà ufficialmente vacante.